Allora, eccoci qua a vedere quattro artisti all'opera e qua disegnano, sembrano anche molto bravi. Cominciamo così a caso. Ciao, tu sei? Valeria Alloro. E che cosa ci disegni? Qui ho disegnato un Groot, un Rocket e i Guardiani della Galassia. E qua invece vedo qualcosa di più completo. Di che cosa si tratta? Questo è un fumetto che faccio con alcuni altri ragazzi, tra cui buon Matteo. Piacere, ciao. Sono Matteo Inconi, sono entrato di recente nel team e faccio uno spin-off su questo fumetto Spesana Basis. E in occasione, diciamolo in anteprima, in occasione del Luca Comics lo presenteremo? Presenteremo il secondo numero. Questo è già uscito e anzi è già comprabile tra internet, librerie e fumetterie. Qui invece abbiamo dei disegni molto belli e scommetto di un artista nascente, perché tu sei molto giovane. Ho 14 anni, mi chiamo Roberta Rialino e sono una sua allieva da circa un anno. Nel futuro vorrei fare la fumettista oppure la creatrice di personaggi per i videogiochi, quindi sempre circa riguardante lo stile fumettistico. Sono anche un'aspirante tatuatrice e coltivo questa passione da quando ero piccola. Complimenti, anche perché noi stiamo ammirando i tuoi disegni, sei molto brava e sicuramente è stato un ottimo maestro. Vi guardiamo un pochino lavorare all'opera e vi seguiremo a Luca Comics. Buon lavoro! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.